La nostra lotta è diretta contro coloro che vogliono tenere le donne in condizioni di inferiorità? La posizione della donna è quella di far girare la testa di uomini. Volete diventare mia amica? La più cara delle mie amiche? Verina, a questi giovanotti non importa di voi, non importa di noi. Tutto ciò che vogliono è farci rinunciare a ciò che consideriamo sacro. Promettetemi che non vi sposerete. Perché andarvene appena arrivo? Uggite davanti all'individuo maschio? L'individuo non mi dispiace affatto. Non è che è un nemico. Un nemico del nostro movimento e del nostro sesso. Dovete temerlo, Verina. Vuole vederlo. Dice che ha molte cose da dirmi. E tu vuoi vedere lui? Cos'è venuto a fare? È venuto per chiedermi di sposarlo. Aiutami. Portami via. Faccio. Grazie a tutti.